Ministro Locatelli, oggi la presentazione della seconda edizione di questo premio giornalistico dedicato a Paolo Sidi De Ferrero, è un'iniziativa importante? Sì, molto importante, che io spero cresca anche con gli anni, perché sensibilizza il mondo del giornalismo, di chi scrive, soprattutto a proposito dei temi sociali, rispetto all'inclusione, al tema della disabilità, ma soprattutto delle persone, quindi le storie di vita poste anche in maniera positiva e con i termini in modi giusti.